I poliziotti della Digos di Enna hanno arrestato a Mantua un cittadino pakistano ritenuto responsabile di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. Lo stesso avrebbe divulgato attraverso i suoi profili Facebook materiale inneggiante al giad e al martirio istigando un numero indeterminato di persone al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo. Numerose perquisizioni sono state eseguite nelle province di Mantua, Enna, Prato, Milano e Como. A coordinare l'inchiesta la direzione dei settori antimafia di Caltanissetta. L'operazione antiterrorismo della Polizia di Stato del capologo Ennese trae origine da alcuni disordini scoppiati il 14 ottobre del 2014 all'interno del centro di prima accoglienza Città del Sole di Piazza Armerina in provincia di Enna a cui avrebbe preso parte il pakistano arrestato a Mantua. Dall'indagine finalizzata alla ricostruzione dei fatti i poliziotti hanno accertato che l'indagato rivestiva il ruolo di leader all'interno della comunità pakistana presente a Piazza Armerina e che nonostante possedesse sei schede telefoniche tutte in uso ad altre persone utilizzava una scheda intestata a persona diversa. I risconti dell'attività hanno permesso agli investigatori di accertare che il pakistano gestiva due profili Facebook in cui postava e condivideva foto e commenti inneggianti alla violenza, alla giad e al martirio, palesando la propria appartenenza ad un'organizzazione pakistana già dichiarata di matrice terroristica militare, dominata Sipa e Sahar Pakistan. In uno dei numerosi post pubblicati dall'indagato è riportata la seguente frase Cerca di interessarti al martirio, la giad andrà avanti fino alla fine. Nell'ambito del procedimento penale risultano indagati altri due cittadini extracomunitari in collegamento con l'arrestato. Il reato continuato di apologia ha preso sostanza attraverso l'analisi anche di numeroso materiale informatico. Però non è stato solo questo perché ci sono state attività di intercettazione peraltro molto complesso perché noi andiamo a intercettare conversazioni che sono in dialetti e in sottodialetti di difficile decriptazione. Grazie a tutti.